Una storia di solidarietà e di speranza nelle ore calde delle proteste di piazza e degli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Nei giorni scorsi gli uomini della squadra volante di Pavia sono intervenuti nel parcheggio della clinica Maugeri per aiutare una signora di 72 anni che vagava a piedi nudi e in stato confusionale. L'attività è iniziata allorché un cittadino ha chiamato il 112 NUE e ci ha rappresentato una difficoltà della madre. Una signora anziana affetta da Alzheimer che ha chiamato il figlio che in quel momento si trovava all'estero per questioni lavorative perché si era persa proprio nei pressi di questa clinica, della clinica Maugeri, mentre aveva accompagnato il marito per una visita. Era spaisata, quindi ha chiamato il figlio e il figlio ovviamente ha chiamato il numero unico di emergenza. La volante ha raggiunto immediatamente la clinica per cercare la donna di cui si aveva solo una descrizione sommaria. La volante effettivamente l'ha ritrovata qui nel parcheggio, ha preso contatti con la signora tranquillizzandola. La signora era evidentemente in stato confusionale sia per la sua pregressa patologia sia per il fatto che si trovava spaisata e non sapeva dove fosse. Tra l'altro era scalza, quindi questo dà la misura di come la signora fosse in difficoltà. Ci ha spiegato un po' che in mattinata aveva accompagnato il marito qui per una visita, ma a un certo punto ha avuto un blackout e non sapeva per quale motivo si fosse ritrovata qui nel parcheggio. Abbiamo fatto un ulteriore passaggio con il figlio, ci siamo fatti spiegare dalla signora chi fosse il marito e quale fosse la sua auto per cercare di contattarlo. Dopodiché, mentre uno dei due agenti ha tenuto compagnia alla signora chiacchierando con lei, l'altro collega si è portato all'interno della clinica e dopo un quarto d'ora, venti minuti, finalmente è riuscito a trovare il marito e li ha fatti ricongiungere. La signora evidentemente era felicissima di rivedere il marito ed era felicissima del fatto che i ragazzi l'avessero intrattenuta in qualche maniera e coccolata per tutto il tempo. Un messaggio positivo in giorni di forte tensione per l'emergenza sanitaria. Nonostante le tante difficoltà, gli uomini delle forze dell'ordine hanno voluto lanciare un messaggio alla cittadinanza. Noi ci siamo anche per questo tipo di problematiche, non solo necessariamente per fatti specie di penali, quindi fatti specie di reato. Quindi in qualsiasi caso ci fosse una questione anche personale di questo tipo, non esitate a chiamare il 112 NUE.